Mi chiamo Tania, ho 54 anni e dall'inizio di quest'anno praticamente seguo il programma presso Under Training. Magari voglio prima raccontarvi un po' cosa mi ha spinto a frequentare Under Training. Io negli anni sono aumentata sistematicamente e gradualmente di peso e questo per tutta una serie di motivi quali le gravidanze, la vita sedentaria e tutta una serie anche di cattive abitudini, soprattutto di natura alimentare. Da parte mia in più occasioni ho cercato di porre rimedio a questa tendenza, intraprendendo di mia iniziativa delle diete oppure iscrivendomi a delle palestre o altre attività fisiche, ma tutto questo con dei risultati che definirei un po' scarsi, ma soprattutto poco duraturi. Questo anche perché dopo un po' di tempo veniva sempre un po' mancare quella che era la motivazione, non vi erano i risultati e quindi ciò che era stato iniziato con un certo entusiasmo poi naufragava sempre miseramente. Tutto questo fino all'autunno dello scorso anno quando una mia amica che già frequentava Under Training mi ha proposto di seguire una lezione di prova. Quindi sono venuta qua con poco convincimento, devo dire all'inizio, però ero poco convinta all'inizio perché vista anche un po' le esperienze passate, ho frequentato questa prima lezione e poi ho deciso comunque di seguire questo programma. Mi sono quindi incontrata con Matteo che è diventato il mio personal training e assieme a lui abbiamo elaborato un programma fisico, ma anche alimentare, fatto un po' su misura su di me, un po' come un vestito su di misura. Devo dire che a distanza di poco più di mezz'anno i risultati sono già buoni, soprattutto per il fatto che sono ancora qui e poi anche dal punto di vista fisico del benessere, è stato un netto miglioramento che non ho notato solo io, ma hanno notato anche coloro che mi stanno attorno. Un miglioramento dal punto di vista del peso, ma anche e soprattutto dal punto di vista del benessere e ciò che è anche importante è che ho modificato in maniera notevole tutte quelle che sono un po' le mie abitudini riferite al movimento fisico, ma anche alla mia alimentazione e quindi devo dire che sono veramente molto soddisfatta del risultato che ho conseguito finora e posso veramente consigliarlo. Devo dire che ci sono stati anche dei momenti dove intervengono un po' dei dubbi perché si ha un po' l'impressione che vi è uno stallo. Ne ho parlato con Matteo e abbiamo magari rivisto e aggiustato un po' quello che era il programma iniziale e questo mi ha poi permesso di continuare e non abbandonare praticamente il programma. Penso di poter veramente consigliare questo programma.